Questo video riguarda i migliori tre pentole a induzione efficace. Il vincitore della qualità è l'Omiro Set Pentole. Il più grande set di pentole e padelle in rame su Amazon ha tutto il necessario per iniziare in cucina. Inoltre questo set di pentole antiaderenti in ceramica include tre protezioni per padelle bonus, due spugne per la pulizia e due raschietti per padelle. A differenza dei set di pentole antiaderenti concorrenti, le pentole da chef in rame di questo set sono compatibili con l'induzione e sicure per il forno. L'interno ceramico ultra antiaderente delle pentole a induzione di questo set di cottura è progettato per un trasferimento di calore massimo e uniforme. Inoltre è durevole e dura più a lungo dei rivestimenti antiaderenti standard, nessuna scheggiatura, sbucciatura o sfaldamento. Il set di padelle a induzione Omiro è progettato con l'utente in mente. I pezzi di questo set di pentole da cucina sono pesanti, il che significa che non si deformeranno mai. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Lagostina Set di Pentole. Batteria di pentole Lagostina 13 pezzi composta da Pentola 22 cm Casseruola fonda 2 maniglie 18 e 22 cm Casseruola bassa 2 maniglie 26 cm Casseruola fonda manico lungo 14 cm Padella antiaderente 26 cm Coperchi 14, 18, 22 e 26 cm Mestolo Schiumarola a prendi spaghetti Il set di pentole pratica è realizzato in acciaio inossidabile 18 barra 10 di alta qualità, duraturo e 100% igienico, con finiture moderne ed eleganti. Il fondo Lagoseal Plus in alluminio ad alto spessore racchiuso tra due strati di acciaio permette al calore di diffondersi in modo rapido e uniforme. Le pentole del set pratica sono dotate di ampie manicature in silicone, per una presa sicura durante la cottura o quando si serve in tavola. Pratico interno graduato per misurare i liquidi senza bisogno di un misurino dosatore, con lucidatura esterna facile da pulire e satinatura interna. Il vincitore del premio è il Kitchen Academa Set di Pentole. Il nostro set di pentole è dotato di antiaderente durevole ed efficiente. Con il rivestimento martellato, puoi cucinare facilmente senza olio, preparare pasti sani per la tua famiglia e pulire comodamente. Il set di pentole con rivestimento in granito è realizzato in alluminio per un riscaldamento efficiente. Le basi in acciaio inossidabile incollate a impatto e la struttura in alluminio rendono il cibo uniforme e un riscaldamento rapido. Le nostre maniglie del set di pentole Hammered sono progettate ergonomicamente per un comodo sollevamento e trasporto. Forniamo 15 settembre di pentole a induzione antiaderente, tra cui padella da 21 cm, padella da 25 cm, cestello rotondo da 22 cm, tondo da 24 cm piroscafo, padella e coperchio da 1,71 L, padella e coperchio da 3,4 L, casseruola da 5,68 litri con coperchio, 5 attrezzi in nylon. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.